Ciao, sono Akeem Mastur. Oggi mi diverto sfidando Carlo a FIFA 14 e sul campo vero. Ciao, sono Carlo, il mio primo è FIFA e voglio diventare un programma. Prima giocheremo sul campo uno contro uno per vedere chi farà prima cinque gol. E poi giocheremo nel 2014. Infine sommeremo i gol per vedere chi avrà vinto. Ma si sa già chi ha vinto. Inizia. Inizia. Oh! Oh! 2-0! Oh! What the heck? Oh! Oh! F***! 1-1. 2-1! No, qui è fallo. No, non è un fallo! Oh! Oh! 1-1. No, qui è fallo. No, non è un fallo! Oh! 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 Close, close! Oh! 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 I think it's too hard. It's better than Genoa. I think it's better than Madrid. I think it's better than Madrid. And it's a penalty! He was correct in it. Oh, man! Oh! What a chance here! Oh, no! And it's a goal, and it's Real Madrid who scored! Running back with an interception. That's halftime. That's it. No! Can it be? No! Challenge is for the ball. Go! Oh! 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 What's the first? Oh! 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 Oh look! Oh, oh my god! Oh! Oh! Oh, oh God! Oggi è stata una bellissima giornata, mi sono divertito molto, sul campo ero molto sicuro di vincere, invece alla PlayStation mi stavo proprio di perdere, invece sono due gol e sono molto contento e ho vinto.